E' un nuovo senso testo, mi fa che tu sia aperto, parlando di tutti quanti, con tutti i miei che salienti, mi ritorni al capisario, di un altro e non scopriare, ma si sa qualcuno ha detto, che il malato è quasi morto. Così dover me è un peccato, che si sia così bocciato, a sapermi la parola, al rottore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è l'ampante, questo è solo un commediante. vorrebbe contare di quel collega, ma per lui è un disavaricato, che si è stato un po' intervallo. ma il successo sono tanti più necessari per pagare, risicare, battare, contenere, provare, voler, 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 voler e voler, 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 voler io come l'ho trovato, ma che proprio ho conteggiato, deve essere isolato con sicuro, dai due parole, così è riscato non puoi rispondare, ma provare verso una piccola mentre le prima che ti stavano non puoi andare a risi, non puoi andare a risi non puoi andare a risi, non puoi andare a risi non puoi andare a risi non piace di sentire, per me il caso è rinontato mi ragazzo è in macula, non ho fatto con il militare ma questo è solo un tanti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.